Musica Ben trovato a questo appuntamento con lo speciale TG8 parliamo di politica e salutiamo subito il nostro ospite di oggi che è neo cittadino senatore perché quelli del momento 5 stelle ci tengono ad essere chiamati cittadini deputati o cittadini senatori l'avvocato Mario Michele Gianrusso grazie per essere qui con noi è una delle poche interviste che concedete come rappresentanti di questo movimento non avete grande disponibilità nei confronti dei media no in realtà si sta lavorando lacrimente i nostri 15 lavorano all'Ars e rilasciano tranquillamente interviste senza nessun problema l'unica questione che è stata posta è a livello nazionale perché il movimento ha visto che i media nazionali e in particolare talk show hanno un atteggiamento particolarmente aggressivo nei confronti del movimento cosa che danneggia il lavoro di tutti e quindi si è reputato non opportuno al momento fino a che non cambieranno le cose non andare nei talk show per il resto si colloca tranquillamente con la stampa Gianrusso è un avvocato amministrativista vicino al Movimento 5 Stelle già dal 2007 attivo su più fronti mai avuto una tessera di partito mai letto nella sua scheda anche se è stato vicino per un periodo alla rete che era in qualche modo un'altra cosa rispetto a un partito sì, quando ero studente ed ero vicino al movimento antimafia lo sono sempre stato la rete nacque all'interno del movimento antimafia difatti era un fronte trasversale da destra a sinistra di tutti gli antimafiosi che si riunirono per cercare di cambiare le cose all'epoca fallì era un movimento non c'erano tessere non c'erano segretari di partito l'esperienza si è chiusa là ho continuato a militare nel fronte antimafia ho collaborato con il giudice Antonino Caponnetto ho collaborato poi alla Costituzione dopo la sua morte della fondazione Antonino Caponnetto che rappresento in Sicilia che è riuscita ad ottenere anche un risultato interessante a San Marino ne parleremo con la Repubblica di San Marino ne parleremo del corso della trasmissione ha partecipato a due videi ha raccolto le firme per diversi referendum dal 2007 noi abbiamo iniziato subito con il piano dei rifiuti di Cuffaro ed è così che sono entrato nel movimento serviva un avvocato amministrativista mi ha dato le cartera a studiare e abbiamo iniziato a lavorare con quella addirittura subito fa il 2007 e il 2008 sono andato con Grillo sul palco al teatro greco di Taormina quella devo dire è stata un'esperienza molto emozionante perché non so se l'ha mai provato il teatro di Taormina con tutte quelle persone che incommono da una certa soggezione perché non è abituato è stata veramente un'esperienza emozionante quindi è stato un po' il suo debutto tra il pubblico, tra la gente sul palco con Grillo quando si accende una luce si resta veramente sconcertati poi c'era veramente mezza Catania gente che conoscevo quindi era... senta ma le voglio chiedere si è detto molto insomma di voi si è detto molto del movimento avete libertà di parola o dovete telefonare a Casaleggio o a Grillo per chiedere il permesso siete autonomi ci svela insomma qualcuno di questi misteri insomma che avvolgono il Movimento 5 Stelle guardi il Movimento 5 Stelle è un movimento che opera in assoluta libertà come sanno tutti coloro che partecipano alle nostre assemblee decidiamo tutto in autonomia senza nessun problema noi in questo momento abbiamo per esempio 15 parlamentari letti all'Ars che hanno scelto i cittadini siciliani li abbiamo scelti tutti insieme nelle varie province prima abbiamo scelto 90 candidati e poi li abbiamo fatti votare senza mai un solo intervento di Grillo Grillo è venuto ha trovato i candidati ha fatto la campagna con loro come ha fatto sempre anche per le nazionali ha fatto una bella campagna insomma vi ha aiutato molto Grillo certo ma anche noi abbiamo lavorato moltissimo ma diciamo che il clima era maturo perché io ho partecipato alle precedenti elezioni regionali col Movimento che ancora non si chiamava nel 2008 perché era Sone Alfano sì era gli amici di Beppe Grillo con Sone Alfano presidente questa era la dicitura della lista non c'era il Movimento 5 Stelle ancora nel 2008 quindi è stato il primo esperimento e la prima riunione regionale mi ricordo eravamo 35 nel 2008 la prima riunione regionale fatta invece nel 2012 per organizzare le regionali eravamo 450 io quando ho visto il numero delle persone ho detto questa volta si vince e di fatti è andata benissima perché il Movimento ha una rappresentanza fondamentale all'Ars e ripeto che opera in completa libertà e autonomia noi non dobbiamo chiedere permesso a nessuno Casaleggio è una risorsa del Movimento è un consigliere di Grillo anzi io dico meno male che è con noi e non è con Bersani o non è con Monti o non è con Berlusconi è il valore aggiunto insomma è l'anima in qualche modo è un consigliere tutti i gruppi politici i leader hanno consiglieri Monti ha dei consiglieri Bersani ha dei consiglieri non vedo perché anzi sarebbe preoccupante se Grillo non avesse dei consiglieri ma dicono che è un po' accentratore però in qualche modo ma di che cosa? non ha nessun incarico ma non ha nessun incarico non ha nessun incarico le strategie le strategie queste le suggeriscono ovviamente poi guardi il rapporto con Grillo è molto particolare io l'ho inquadrato parlando anche con altri ma lei si sente ogni tanto con Grillo insomma vi date del tour lo chiama Beppe ha bisogno di qualche consiglio tutti gli attivisti quando incontrano Grillo lo chiamano Beppe ma avete il suo numero di telefono lo potete contattare? c'è chi ce l'ha c'è chi non ce l'ha ma non è necessario quando non abbiamo il bisogno di contattarlo è comunque il leader del movimento sì però noi dobbiamo capire una cosa che è anche la chiave del successo del movimento il movimento parte dal basso non dall'alto Grillo è come se fosse un straordinario cantante di opera lirica canta delle canzoni che sono scritte però dalle persone le parole di Grillo sono le parole delle persone dei cittadini di questo paese quindi quando si dice che Grillo è in sintonia col paese è perché semplicemente diventa la voce lo chiamano il nostro megafono quindi è lui che sente noi e non il contrario se tra lei si si aspettava che ha iniziato nel 2007 avvicinarsi al movimento e che un giorno poteva diventare senatore poteva esserci un ruolo di un certo tipo di grande rilieve di grande prestigio nello stesso tempo o anche di responsabilità abbiamo iniziato con Giulia Grillo che adesso è parlamentare alla Camera è cittadina eletta alla Camera abbiamo iniziato nello studio medico di Giulia Grillo perché Giulia Grillo è un medico eravamo dodici lei si può immaginare se dodici persone arrivano in uno studio che parlano di rifiuti e di partecipazione dei cittadini possono mai immaginare di arrivare in Parlamento non lo immaginavamo io ho subito immaginato che si trattava del percorso di costruzione di un movimento politico l'obiettivo era di fare partecipare i cittadini e questo è avvenuto non è una cosa che è nata ieri diciamo che Grillo lavora su questo tema da oltre 15 anni da oltre 15 anni il movimento opera dal 2002 2003 sono i primi esperimenti quindi stiamo parlando oltre 10 anni il movimento per costruirsi anche nel nome nel 2007 non c'era il nome cioè non è una cosa nata ieri o l'altro ieri assolutamente c'è tutto un percorso che è passato anche per tutte le battaglie guardi noi siamo stati presenti in tutte le battaglie di questo paese anche il successo del movimento in Sicilia è perché noi siamo stati là nelle battaglie contro gli inceneritori per l'acqua pubblica Parlamento Pulito per la riforma della politica contro il nucleare per la preferenza riformando la legge elettorale contro il ricassificatore è un movimento diciamo che è stato contro il MOSS anche questo sistema di antenne fondamentale assolutamente fondamentale è stata la battaglia per il MOSS e questa è una delle battaglie che ha fatto capire ai cittadini siciliani che cosa vuol dire avere dei parlamentari del Movimento 5 Stelle dentro un organo che decide come l'assenza regionale siciliana sono passati 15 parlamentari per cambiare la realtà e ribaltarla cioè prima della presenza dei parlamentari del Movimento 5 Stelle alla Regione nessuno si occupava dei cittadini di Niscemi e del MOSS improvvisamente entrati noi alla Regione avendo avuto anche la presidenza della commissione a territorio e ambiente con il bravissimo Gempiero Trizzino e i nostri bravi deputati che ne fanno parte come Angela Foti questo ha cambiato tutto cioè Trizzino è andato con la sua commissione a Niscemi e ha convocato là l'assessore regionale davanti ai cittadini lei si rende conto questa è una rivoluzione copernicana questo ha cambiato le carte in tavola la politica non è più la stessa da quando noi siamo qui avete dato in qualche modo la scossa Gianlusso lei ha seguito sicuramente in questi ultimi giorni in queste ultime settimane la vicenda legata all'abolizione delle province Crocetta ha dato questo annuncio lo ha fatto anche a livello nazionale se ne sono occupati i media nazionali di questa vicenda ma molti dicono è soltanto fumo in questo momento si può dire di tutto però poi alla fine dovranno decidere i 90 parlamentari e in ogni caso non ci saranno più le province ci saranno i consorsi di comuni quindi andiamo ad appesantire ancora di più questa macchina questa struttura allora noi stiamo parlando di qualche cosa che ancora non è stato approvato però stiamo parlando di un grandissimo passo avanti noi sappiamo che le macchine le macchine della partitocrazia già stavano scaldando i motori per riempire un'altra volta i consigli provinciali di eletti che sarebbero stati là a pascolare con i nostri soldi a distribuire incarichi consulenze a fare tutto il danno che tutti i cittadini hanno ben presente basta andare in giro per la Sicilia come abbiamo fatto noi per le elezioni nazionali e regionali per vedere il vero motivo per cui le province vanno abolite ci sono intere province che sono completamente devastate cioè ci sono le strade che sembra che è passato veramente uno tsunami non sono mai state ricostruite chi si occuperà delle strade in futuro certamente non la provincia che aveva uno dei compiti più stupidi c'è veramente un bambino di 11 anni in grado di occuparsi delle strade i compiti principali sono strade rifiuti e scuole perfetto è sotto gli occhi di tutti che sono stati incapaci di occuparsi di queste cose quindi la ragione d'essere dello scioglimento è quella quindi non solo se ne parla si è messo in agenda e sicuramente il Movimento 5 Stelle darà l'imprinting come l'ha dato perché attenzione noi sappiamo che non era quello l'obiettivo qual è la proposta quali sono le proposte insomma chi si occuperà di scuole chi si occuperà di rifiuti chi si occuperà delle strade allora è molto semplice in Italia cosa ne sarà dei dipendenti circa 6 mila mi pare in tutta la regione le dico solo una cosa in Italia lei sa ci sono tanti enti che si occupano di tante cose comuni province regioni e poi lo Stato con i ministeri quando si sopprime uno di questi enti più piccoli come la provincia semplicemente le competenze vengono distribuite noi riteniamo come abbiamo fatto con la legge regionale sui rifiuti che le competenze debbano ritornare il più vicino possibile ai cittadini perché li devono controllare i cittadini la legge sui rifiuti che è stata approvata il 29 dicembre prevede la possibilità che i comuni gestiscono direttamente tutto il ciclo tranne le discariche che è una rivoluzione copernicana cioè finalmente i cittadini sanno che se qualcosa non va nella raccolta di rifiuti se la possono prendere col sindaco e mi pare giusto è una rivoluzione avrà a disposizione gli strumenti necessari a cominciare da quelli economici allora le risorse economiche le risorse economiche ovviamente vanno trasferite quelle che erano a disposizione dell'ente vanno trasferite per competenze quindi seguono le competenze se c'erano fondi per le scuole andano attribuiti agli enti che si occupano delle scuole ma anche il personale dico io ho una mia idea che è diversa diciamo mi pare di aver capito perché ancora non l'ho letto bene nel dettaglio il progetto Crocetta ma la mia idea era dell'abolizione completa tra le province e della mobilità dei dipendenti presso gli enti locali che è una cosa con un aggravio di costi assolutamente a parità di costi sono delle leggi che prevedono un aggravio di costi a parte della regione non è così perché le spiego se noi paghiamo allora in Italia si pagano circa si spendono 13 miliardi di euro per tutte le province di questo solo 3 miliardi di euro sono per il personale allora a costi invariati 3 miliardi di euro noi prendiamo questo personale e volontariamente con i bandi di mobilità questo personale va nei comuni la spesa di 3 miliardi viene distribuita nei comuni quindi non c'è un aggravio di spesa anzi le dico di più ci sono molti comuni ma questo trasferimento non comporta una percentuale in più per i dipendenti sono al disastro dal punto di vista del personale perché sono 20 anni che non fanno più un concorso che non possono più assumere hanno solo consulenti gente presa senza concorso quindi il trasferimento di forze fresche con un'esperienza amministrativa di cui non hanno nessuna gravi di costi perché i costi vengono trasferiti e secondo me invece è una cosa formidabile le dico solo una cifra a Catania noi abbiamo in pianta organica 1600 vigili urbani e sa quanti ce ne sono? 480 noi abbiamo una città priva di vigili urbani non ci sono vigili urbani a Catania perché sono 20 anni che non si fa un concorso lei pensi se non lo so un centinaio 200 di questi quelli della polizia provinciale transitassero nel comune di Catania che boccata d'ossigeno sarebbe per il nostro comune senza gravi di costi perché tanto si spendeva alla provincia tanto si spende al comune ma se avrebbe un'utilità dice lei sociale immediata enorme con un risparmio se abolissimo tutte le province a livello nazionale 10 miliardi perché attenzione 3 sono il costo del personale il resto la maggior parte sono costi per tutto quello che noi individuiamo come casa autoblu consulenze danni che fanno a tutto spiano come abbiamo visto con le nostre province quindi ci sarebbero grandi risparmi tant'è che questo è uno dei nostri obiettivi come parlamentari 5 stelle cioè la posizione secca delle province senta lei ha detto di tecnici ne abbiamo fin sopra i capelli io una cosa del genere non la potrei mai dire lei la può dire insomma manca ragion veduta guardi se Monti restava un altro po' può darsi che glieli faceva ricrescere perché sicuramente mi deve perdonare ha atterrito gli italiani li ha lasciati in un disastro guardi Monti ma come tutti i cosiddetti tecnici gente che non è al contatto con la realtà non ha avuto nessun tipo di consenso sociale non sa nemmeno il paese non conosce nemmeno il paese in cui vive ha operato un disastro nel nostro paese ha gettato nel panico nella disperazione l'Italia noi noi di tecnici soprattutto tecnici che provengono dal mercato bancario e finanziario penso che non ne vorremmo più vedere per i prossimi 25 anni non adesso ecco ma qual è il governo che voi immaginate e pensate perché non siete a favore dei tecnici dite no a Bersani dite no a un governo con la vostra presenza all'interno avete anche avanzato la proposta e l'ipotesi di affidare a Grillo dottore Zito noi dobbiamo in tecnici Zitelli mi deve scusare Zito è il nostro bravissimo parlamentare mi scusi allora noi dobbiamo intenderci il partito democratico fino al mese scorso sosteneva il governo Monti e il suo programma e l'ha votato tutto è un programma che noi dobbiamo smantellare se vogliamo evitare che il paese vada a picco quale via d'uscita? inizio smantelliamo quel programma per smantellare quel programma è ovvio che ci vuole una correzione di rotta di 180 gradi del partito democratico cioè deve cambiare completamente rotta lei comprende bene che cambiare è completamente rotta non è una cosa lei ha letto gli 8 punti di Bersani? sì e non vanno bene non vanno bene c'è qualcuno che le piace? sì però sono generici sono vuoti non hanno capito ancora il linguaggio lei cosa avrebbe messo? guardi al primo punto noi dobbiamo mettere i costi della politica che è quello che ci chiedono i cittadini l'eliminazione il finanziamento pubblico dei partiti retroattivo? la prima cosa soldi noi ai partiti non ne dobbiamo dare ma anche retroattivo partendo anche dal passato? senza alcun dubbio questi hanno fatto la campagna elettorale a credito spendendo i soldi dei cittadini se i cittadini vogliono contribuire a una campagna elettorale che lo facciano liberamente scegliendo loro a chi dare i soldi io personalmente 95 Stelle ha raccolto fondi? sì ha raccolto fondi credo che abbia raccolto circa 600 mila euro per fare la campagna nazionale quanto è costata la vostra campagna elettorale? renderemo noto i costi ma sono veramente minimi perché avevamo Grillo che girava il campo quindi siete pronti a una nuova campagna elettorale vorremmo evitarla ma siamo prontissimi non è un problema il problema è per gli altri anche perché vorreste cavalcare il momento noi non vogliamo cavalcare il momento noi vogliamo fare quello per cui i cittadini ci hanno mandato in Parlamento che sono delle cose ben precise non è occupare poltrone non è assolutamente occupare poltrone infatti noi abbiamo detto quello che noi non possiamo votare è un governo che è espressione dei partiti cioè i cittadini li hanno bocciati questi partiti con il loro voto e lei pensa che dopo che hanno dato il voto a noi accetteranno che noi diamo il voto a questi partiti e come andrà a finire allora questa situazione secondo lei? secondo me comunque andrà a finire bene perché siccome noi siamo pronti alle elezioni loro no cambieranno cercheranno di fare il possibile per cambiare e sicuramente per accontentarvi per venire insomma dalla vostra parte Grillo ha dato ha dato il modello il modello è il modello siciliano il modello siciliano è un modello in cui c'è un governo il governo fatelo voi c'è un governo ripeto noi non siamo là per occupare posti di potere però noi siamo là siamo la lobby dei cittadini per chiedere e ottenere con forza le cose che i cittadini vogliono e siccome riusciamo a ottenerle va benissimo guardi c'è un problema in questione della regione alla regione l'opposizione non ci considera opposizione la maggioranza non ci considera maggioranza che cosa siamo? siamo nel Movimento 5 Stelle ma voi siete un po' l'ago della bilancia ma è difficile da capire per loro perché è un nuovo concetto di fare politica noi stiamo promuovendo lo stesso a livello nazionale cioè noi siamo disponibili a votare le proposte che coincidono con la volontà espressa dai cittadini siamo là non abbiamo interessi di partito o personali men che mai personali da fare valere quindi chi si presenta con l'agenda che hanno dettato i cittadini noi votiamo subito Grillo l'ha detto subito ci sono tutta una serie di punti abbiamo 20 punti il reddito di cittadinanza che era il primo punto del nostro programma il reddito di cittadinanza quanto vorreste dare insomma a testa si parla di 1000 euro circa ma dove si prendono questi soldi? guardi in Italia i soldi si prendono perché le spiego noi in questo momento stiamo facendo guerra all'Afghanistan ora se non ci sono i soldi noi stiamo facendo la guerra a credito lei pensa che stiamo facendo la guerra a credito può darsi infatti la prima cosa che abbiamo chiesto è che ci dobbiamo ritirare dall'Afghanistan visto che non ci sono i soldi poi magari se non ci sono i soldi per il reddito di cittadinanza o per tenere aperti gli ospedali o per ristrutturare le scuole invece di spendere oltre 100 miliardi di euro per gli F-35 che nemmeno funzionano sono degli aerei cancelliamo certo degli costosissimi aerei da caccia di costruzione interamente americana se noi non ci servono depenniamo depenniamo abbiamo già 100 miliardi di euro una sorta di conto del buon padre di famiglia che nel momento di crisi elimina il superfluo elimina il non necessario gli spagnoli senza tante storie se ne sono andati dall'Afghanistan gli hanno detto agli americani scusate non abbiamo soldi e ce ne andiamo è una cosa logica c'è nemmeno da bombare di famiglia se non ci sono i soldi ci si ritira ci dica altri due o tre punti ci dica altri due o tre esempi allora l'abolizione delle province ne abbiamo parlato là sicuramente intorno a 9 miliardi di euro di risparmi ci sono sicuri ma poi la riduzione dei costi della politica guardi che noi abbiamo dei costi che non sono solo il rimborso delle spese elettorali voi non prenderete nulla darete tutto noi abbiamo rinunciato già una cifra che la devono valutare ma credo che viaggi intorno ai 100 milioni di euro solo per noi si parla di 200 milioni di euro per il partito democratico ed altri quindi cifre rilevantissime già smobilitare queste e utilizzarle per i cittadini è una cosa fondamentale ma non basta nei costi della politica ci sono gli assurdi privilegi di cui si sono dotati i nostri eletti noi abbiamo detto che rinunciamo alla maggior parte dell'emolumento i nostri parlamentari regionali già hanno rinunciato al 70% dell'emolumento e una cosa importante hanno fatto e questo lo dobbiamo sempre ribadire hanno versato il 70% dei loro monumenti in un fondo creato ad hoc d'accordo col governo regionale che ancora non è operativo però perché stanno approvando il regolamento ma intanto lo stiamo finanziando che servirà al microcredito per le imprese cioè per le piccole e medie imprese anzi le piccolissime imprese che sono in affanno potranno accedere a fondi da 5-10 mila euro in modo assolutamente una piccola boccata d'ossigeno agevolato e guardi stanno raccolgendo 138 mila euro 15 parlamentari raccolgono 138 mila euro al mese e quindi gli altri 75 cosa niente se li tengono anche quelli che volevano fare il grande riduzione dei costi della politica a parole i soldi se li incamerano e a parole vogliono ridurre i costi della politica noi a fine anno avremo oltre un milione di euro nella voce per dare questa piccola boccata d'ossigeno e sono 15 ce ne potrebbero essere 5 sostanzialmente perché parliamo 15 sono poco meno del 20% 15 su 90 le si immagini che cifre stiamo parlando noi vogliamo fare la stessa cosa a livello nazionale appena ci sediamo ci organizziamo noi abbiamo detto che prenderemo 5 mila euro lordi più ovviamente il rimborso per poter sopravvivere a Roma che come lei sa è necessario spostarsi costa tutto documentato il resto cercheremo di fare come abbiamo fatto in Sicilia Gianrusso l'albergo a Roma chi l'ha pagato per la due giorni insomma che c'è stata abbiamo fatto un corso era solo un momento di incontro abbiamo fatto un pre-incontro organizzato dagli amici romani perché gli amici romani si sono resi conto che dovendo raggiungere Roma lunedì per l'incontro molti di noi venivano domenica allora hanno detto perché non ci incominciamo a vedere domenica incominciamo a parlare di cose speech ed organizzative conoscerci fa noi e organizzarci bene e abbiamo fatto voi siete andati in pizzeria al ristorante cosa avete fatto sì cose normali siete andati a prendere una pizza pagata alla romana sempre questo è ovviamente alla romana perché eravate a Roma sì ma poi hanno pagato i romani l'albergo perché giustamente dice noi non ci dobbiamo spostare non abbiamo spese d'albergo né spese di trasporto almeno l'albergo lo paghiamo noi però in genere si finisce con la colletta per esempio per le spese comuni hanno fatto un coffee break no? Senta due punti prima di chiudere avremo modo magari di incontrarci in altre occasioni questa è una sua prima uscita pubblica in qualche modo insomma da neosenatore ed è una delle prime volte che ospitiamo insomma la voce del Movimento 5 Stelle del portavoce portavoce dei cittadini io non sono qua perché sono Mario Giorlusso semplicemente sono qua perché ci sono i cittadini che vogliono alcune cose e tramite me cercheranno di ottenerle la sua campagna elettorale l'ha fatta via internet porta a porta incontrando la gente l'abbiamo fatta insieme con tutti gli altri candidati andando in giro per la Sicilia ma la gente cosa vi diceva? è stata straordinaria un'emozione incredibile dappertutto troviamo entusiasmo passione anziani giovani ragazzi tutti veramente emozionati e pronti a partecipare a questa che è una cosa importante è una rivoluzione una vera rivoluzione che è partita dalla Sicilia noi siamo all'avanguardia d'Italia in questo momento senta parliamo di Catania se dobbiamo necessariamente parlarne ci saranno le amministrative a maggio avete già due nomi almeno si dice ci sono due nomi in campo Libia Adorno e Alessandro Zappulla uno dei due sarà candidato sindaco certamente lo sceglieranno gli attivisti come abbiamo fatto sempre e le posso garantire che Casaleggio o Grillo non hanno messo bocca non sanno nemmeno chi siano questi nostri due candidati gli attivisti come lo sceglieranno via internet? no nelle assemblee rinuniremo un'assemblea e decideranno quanti sono gli attivisti del momento 5 stelle a Catania e provincia? ma no Catania e provincia le riconoscere che sono in provincia di Catania ci sono oltre 40 gruppi quindi io Catania quanti sono? ma in Catania un paio di centinaia sempre più del numero delle persone che scelgono i candidati sindaci degli altri partiti che sono 4-5 persone che si riuniscono chissà dove per fare chissà che se a te si sente più un nominato o un eletto? io mi sento un portavoce ed è quello che ho fatto ma è stato nominato però? no assolutamente è stato inserito insomma no le spiego con questa legge si è tutti nominati però noi abbiamo fatto le parlamentarie cioè chi voleva candidarsi si inseriva in un sito del movimento e veniva votato dagli attivisti del movimento che stabilivano loro e non Grillo chi andava in lista qualcuno dice che sono stati poco però quelli che hanno votato sono stati pochissimi ma non ha importanza allora non sono pochi sono gli attivisti pochi o molti sono quelli che hanno scelto nemmeno noi li conosciamo perché siccome erano inseriti nel sito ci sono stati diversi quindi mi dice noi abbiamo fatto la nostra elezione noi non siamo nominati siamo stati eletti siamo stati messi là ci siamo organizzati il posto in lista è stato garantito dal voto degli attivisti ed è una cosa guardi che questa è una cosa che hanno studiato in tutti i paesi occidentali è la prima volta che integralmente una lista viene stabilita dal basso cioè Grillo dice veramente ma io questi che sono in lista non li ho mai visti ed è vero è vero difatti ci è rinito come di per vederci bene noi la ringraziamo di essere stato con noi per questa chiacchierata per questa conoscenza è un modo di rincontrarci ancora grazie anche a voi che ci avete seguito da casa appuntamento alla prossima volta grazie a tutti grazie a tutti